C'era un punto importante sul come posizionarsi in azienda quando ci sono delle dinamiche tra gruppi. Ne parlavo appunto durante una sessione di coaching abbastanza fresca. Una delle parti fondamentali è la nostra responsabilità nella comunicazione. Non c'è niente di peggio di quando vedete quelli che dicono io sono responsabile di quello che ti dico, non di come tu lo percepisci. No, cazzate, è proprio l'opposto. Cioè noi siamo pienamente responsabili dell'intera catena della comunicazione e dobbiamo assumerci anche la responsabilità di come viene percepito il messaggio proprio perché ci assumiamo le responsabilità di ciò che accade. E l'importanza del posizionarsi in maniera giusta nella catena di collegamenti tra i vari gruppi è quello che può fare la differenza all'interno di una carriera, di un'evoluzione di carriera. Mi spiego. Facciamo l'esempio di due team, un interno e un esterno, un fornitore che deve completare un lavoro entro certi tempi, entro certo budget, e il cliente interno che è quello che ha dato le scadenze, ha il budget da mettere sull'argomento e tutto. Ora, se noi dovessimo lavorare come punto di controllo tra i due, no? Il project manager, il capo commessa, il responsabile di questa funzione, ci sono vari modi nei quali ci possiamo posizionare. E lì è la professionalità di come lo facciamo, per entrare più nello specifico. A un certo punto di un progetto potremmo essere in una situazione in cui siamo lunghi, come tempi, non si riesce a consegnare nei tempi, nel budget o nella qualità prestabilita un qualcosa. E allora lì come la gestiamo? C'è chi, credendo di vivere negli anni 80 o magari vivendo in un contesto aziendale molto aggressivo, pensa di andare e di aggredire il fornitore perché fai questo e quest'altro e quindi andare con lo stick e premere e fare pressione per ottenere il risultato. Parentesi, una frase molto bella che si applica nel mondo del lavoro e anche nella vita è sono tutti capaci di affrontare i casini nella vita. Se volete testare la personalità di una persona, datele un po' di autorità. Come questa persona gestirà l'autorità vi dirà tantissimo sulla sua personalità. Questa è una frase che per me è stata illuminante, l'ho sentita anni fa e mi ha aiutato a leggere molte cose di me e di altri rispetto a questo. Cioè appena avete un minimo di autorità, quindi in questo caso siete magari voi che potete andare con un potere negoziale dal fornitore, lo cazziate perché io sono il cliente e quindi ho sempre ragione e quindi posso prenderti e è, oppure gestite diversamente la cosa. Questo farà la... determinerà la differenza in molte cose nella vostra carriera. Quindi in una situazione del genere, qual è a mio avviso uno dei meccanismi più vincenti? Quando vado dal fornitore, invece di avere uno scontro, io voglio questo, tu stai dando questo, uno deve trovare un punto di apertura per capire e creare un dialogo. Ripeto, non stiamo nel mondo Walt Disney, ma nel mondo professionale ci può essere un momento in cui si dice Ok, perché non stai riuscendo a fornirmi questo? C'è qualcosa di non realistico nelle mie aspettative? È successo qualcosa? Perché le risorse che sono state individuate, i costi o la qualità, non rientrano nella finestra che ci eravamo dati? Tu hai tutto il know-how e la conoscenza, quindi mi devi spiegare cosa non va e quali sono potenzialmente le soluzioni, le alternative o comunque le maniere per fare risk mitigation, no? Quindi non sto andando, è come dico io e tu sei l'impuro perché non raggiungi quello che ti sto dicendo. In quel momento, se c'è una buona connessione, probabilmente il fornitore, in questo esempio, sarà capace di dire, guarda che tu mi hai detto di fare le cose in questa sequenza, però così mi costringe a spostare i team, mettere quello in attesa, mentre quello potrebbe lavorare lì, no? Pensate banalmente ai lavori di ristrutturazione di un immobile, quanto una pianificazione sbagliata ti tiene delle squadre in attesa perché i materiali lì devono tirare o non hai considerato che l'operaio, l'idraulico non può andare a fare tutte le impiantistiche se prima il muratore non ha finito determinate cose, no? Questo tipo di realtà, però in maniera più organizzata corporate, in quel caso tu puoi avere il fornitore che ti dice, guarda che c'è questa situazione che io non posso gestire, se però mi permetti di invertire l'ordine, io posso sfruttare un team che prendo da un altro progetto e lo metto qui, oppure dobbiamo investire soldi qui però questo mi permette di, e alla fine questa persona insieme può trovare una soluzione perché ho tolto un grado di rigidità nel mio approccio. Analogamente quando poi mi riverso all'interno della mia azienda con i miei stakeholders, è ovvio che anche lì devo essere attento a, sì, stiamo aspettando, queste sono le attese, queste sono le aspettative, questi sono gli standard, però ci sono determinate situazioni, abbiamo dovuto trovare una soluzione, un possibile compromesso per mitigare i rischi, fare questo significa accettare questo, dilazionare questo e ottenere questo risultato diverso, cioè all'interno di questa, invece di posizionarci come tra l'incudi nel martello, tra uno che grida da un l'altro e l'altro che viene sgridato dall'altro, possiamo creare valore aggiunto diventando il meccanismo che permette a questo ingranaggio, ai due estremi, di funzionare. È una cosa molto difficile, però è una delle caratteristiche principali di un manager, quello di gestire i suoi stakeholders, particolarmente in queste situazioni dove apparentemente le cose sono diametralmente opposte come aspettative. Un esempio del genere ce l'avevo anche da un mio capo, una persona in gambissima di cui parlo spesso, lei aveva iniziato in delle divisioni tecniche del facility management occupandosi di comunicazione, in che senso? Non è che faceva le locandine per gli eventi, ma io team che mi occupo del facility management di un ufficio, di una sede, quindi sono pieno di tecnici bravissimi a gestire i sistemi HVAC, a gestire i building management system, a gestire tutta la parte manutentiva, da tutto questo escono dei numeri che mi dicono come stanno andando le cose. Prendere questi numeri e farli diventare un pacchetto di comunicazione per il cliente è un altro tipo di skill. Allora, se io mi posiziono male, vengo percepito come quello che noi tecnici facciamo il lavoro, arriva Maurizio e va a fare lo splendido nelle riunioni e si prende i meriti. Se invece mi posiziono bene in questo discorso, allora vi aiuto a prendere tutto questo, farlo diventare un qualcosa che agli occhi degli stakeholders sarà accettabile, gestibile e via dicendo. È sempre un come noi ci posizioniamo all'interno di una certa catena, ok?